Musica romantica di sottofondo, panorama mozzafiato, benvenuti ad una nuova puntata di Cibo e Dintorni. Vi parlo dalla terrazza del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, dalla terrazza che definire spettacolare è davvero riduttivo. Perché siamo su questa terrazza? Semplice perché tra qualche giorno sarà San Valentino, la festa di tutti gli innamorati. Gli innamorati del marito, della moglie, del fidanzato ma anche della vita, del panorama e della buona tavola. Si sono inventati qualcosa di davvero particolare e noi adesso vi racconteremo come potrete vivere una serata davvero straordinaria proprio su questa terrazza. Sono in compagnia di Pietro Cavallo che è il direttore di questo Hotel Renaissance Naples Hotel Mediterraneo e al quale chiediamo di svelarci che cosa vi siete inventati per farci trascorrere la sera di San Valentino davvero col cuore nello zucchero. L'occasione di San Valentino non la perdiamo ormai da tanti anni, siamo sempre a festeggiarla e farla festeggiare agli innamorati in modo sempre eccezionale. Diciamo questa volta tra food locale e un panorama mozzafiato su questa nostra terrazza ci saranno anche delle installazioni artistiche di artisti napoletani dove gli innamorati potranno fare delle meravigliose foto su questo panorama da questa bella terrazza. Per quanto riguarda il food tra poco ci sposteremo nelle cucine ma qualche anticipazione in più su queste opere d'arte, queste installazioni che so saranno assolutamente straordinarie? Saranno straordinarie, diciamo sono l'installazione di cuore di Napoli, nient'altro non sveliamo. Eccomi allora con lo chef Pasquale Di Simone al quale ho praticamente scippato dalle mani questo menù che vado a leggervi velocemente come per dire, insomma per farvi vedere l'acquolina in bocca. Allora perla di bufala, salmone aneto, pane, burro, acciughe e limone buono, cestino di brisea al sesamo con tartare di fassona, salsiccia rossa di Castelpoto, provolone del monaco e noci. Poi fogliette di polpo e finocchi agli agrumi, germogli di barbabietola e salsa di lamponi, riso carnalori in salsa di crostacee, asparagi trifolati stracciata di bufala e mandarini canditi, qui già sto per svenire, rombo dal cuore morbido di spinaci e cremoso di fior di latte di aggerola con carciofi e rapa rossa, gnam gnam, due dolci vini meravigliosi, insomma guardate, una cosa assolutamente strepitosa. Chef, ma lei ci ha pensato un anno intero quasi a questo menù? Sì, sì, è una ricerca abbastanza lunga, sì, è complessa. Ma oggi che cosa possiamo vedere e possiamo mostrare ai nostri amici di Cipoli dintorni così che gli venga ancora di più l'acquolina in bocca? Ma oggi ho pensato di farvi vedere le fogliette di polpo in salsa di agrumi. Ok, senta, ma è una cosa che secondo lei noi per assaggiato abbiamo venire per forza qua, o magari uno la può anche fare a casa? Ma io vi svelo qualche segreto così in modo potreste repicarlo magari anche a casa, con un po' di accortenza, eccoci qua. Allora, pentolone, polpo in cottura? Polpo in cottura, sì, acqua bollente, immergiamo il polpo, lo facciamo cuocere per circa 40 minuti, diciamo in base alla grandezza. Ma deve essere molto molto morbido? Deve essere abbastanza morbido, io aromatizzo l'acqua con una boccetta di limone, del sale e mi piace a volte anche un anice stellato, per dare un po' di profumo. Senti, io faccio questo. Si sente, si sente. Arriva, arriva. Arriva, 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 arriva assolutamente. Allora, dopo che il polpo sarà cotto e raggiungerà la giusta consistenza, che cosa facciamo? Sì, quando il polpo è molto caldo, se volete ve lo faccio vedere. Sì, facciamo, facciamolo, facciamolo, assolutamente. Quando è ancora caldo, eccolo qua, lo estraiamo dall'acqua e lo sistemiamo su un banco da lavoro, in modo che possiamo un attimino lavorarlo. Io in genere aggiungo sempre ancora un po' di sale, ecco qua, mettiamo un pizzichino di sale, metto una boccetta ancora di agrumi, ancora per far prendere il profumo degli agrumi e del succo di limone. Olio invece no. Olio invece no, lo aggiungiamo poi alla fine dopo. Adesso ci spostiamo su questo nastro trasparente e sistemiamo il nostro polpo. Ecco qui, qui c'è un foglio di pellicola, non so se si riesce a leggere dalla telecamera, ok. Quindi lo mettete su una pellicola. Siamo ad avvolgere. Tutta l'operazione deve essere fatta a caldo, mi raccomando, facendo andare la testa giusto al centro e con l'aiuto delle mani far inserire all'interno tutti i tentacoli. Ed il polpo si va a comprimere all'interno della pellicola. Tutto rigorosamente a caldo. Tutto a caldo. Aspetta, fammi toccare. È a caldo caldissimo proprio. Però questo è l'unico modo per riuscire a ottenere questa forma. Purtroppo sì, perché la gelatina che contiene il polpo automaticamente crea quello stato di legamento tra i tentacoli, in modo che quando andiamo a tagliare si mantiene bello solo. Ok, e adesso di questo che facciamo? Una volta fatto questo dobbiamo subito raffreddarlo. Quindi ho preparato una ciotolona con acqua e ghiaccio. E lo immergiamo all'interno. Ecco qua. Quanto tempo lo lasciamo qui dentro? Lo lasciamo circa un'oretta in modo che arriva il freddo all'interno e poi successivamente lo sistemiamo in frigo positivo e deve essere preparato almeno 24 ore prima. Comunque sentite, questa ricetta da sola è già un grosso segno d'amore. I segni d'amore sono quelli che vivremo, anzi che potrete vivere anche voi, 14 sere qui all'hotel Mediterraneo. Renaissance, Naples Hotel Mediterraneo, intanto questo lo mettiamo nel frigo e prendiamo l'altro che abbiamo già pronto. Ecco qua il nostro... Pasquale, allora l'abbiamo tirato fuori dal frigorifero e adesso che succede? Allora abbiamo tolto la pellicola, mi raccomando quando toliete la pellicola fate molta attenzione a non comprimere perché comprimendo si rischia di sgretolarsi. Quindi bisogna essere un po' delicati quando si fa quest'operazione. Freddo, compatto e... Sì, un bello compatto che si può affettare tranquillamente. Se avete un'affettatrice sicuramente è meglio a casa, però col coltello si ci riesce allo stesso. In questo piatto sono compresi come elementi del finocchio, c'è della rucola, delle erbette aromatiche, una salsa di lamponi e una salsa di agrumi. Ok, adesso andiamo a comporre il piatto. Ok, io voglio ricordarvi che questo è soltanto... Intanto tu continua Pasquale, grazie. Io voglio ricordare agli amici di ceboidintorni che questo è soltanto uno degli aspetti di questa serata intitolata Segni d'amore che inizierà qui sulla terrazza del Grand Hotel Mediterraneo, Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, con un dolce cadeau di Nancy Sannino, una giovanissima pastry chef pluripremiata che quindi comincerà ad addolcire la serata. Poi tutto quel meraviglioso menù che vi ho elencato poc'anzi e poi alla fine queste installazioni meravigliose di cuore di Napoli con lo zampino degli artisti, dei giovani artisti disintegrati. Intanto che cosa è successo? Tu hai tagliato delle fettine? Sì, ero sistemati in un piatto con un po' di rucola. Molto sottili? Molto, abbastanza sottili, in modo che il polpeggio è abbastanza morbido. Però quelle fettine vanno a coprire la rucola. Adesso andiamo a condire tutto il piatto. Perfetto. Guardate che meraviglia il tocco dello chef. In un attimo questo è diventato un quadro, altro che un piatto. Poi ancora un po' di salsa all'arancio. Te la passo, prego. Grazie. Senti, com'è fatta questa salsa all'arancio? Mi incuriosisce. Ma questa qui io prendo gli agrumi, quindi in questo caso ho preso delle arance, dei limoni, qualche mandarino, e le faccio cuocere al vapore con dello zucchero, naturalmente sottovuoto. Poi dopo frullo il tutto e lo passo al setaccio molto fine e diventa questa cremina molto delicata. Alla fine andiamo ad irrorare tutto con un goccino d'olio e limone. Bellissimo, bellissimo. Come dire, insomma, et voilà, il gioco è fatto, et voilà, il segno d'amore è stato lanciato. Qui vi aspettiamo tutti la sera di San Valentino per questo segno d'amore e per molti altri segni d'amore. Grazie per essere stati con noi, grazie allo chef per questa prelibatezza. Però tornerò un'altra volta, mi deve preparare un'altra cosa perché io so che ha delle cose buonissime. Alla prossima. Alla prossima, buon San Valentino. Alla prossima, buon San Valentino.